Una voce fuori dal coro che interviene sulla vicenda legata alla realizzazione di un impianto di biometano nel comune di Auletta. Amedeo Monaco, titolare di un'impresa agricola, manifesta il suo sostegno alla possibile realizzazione dell'impianto di biometano, supportando l'amministrazione comunale ed elencando in una lunga nota stampa i possibili effetti positivi di tale impianto. La mia posizione rispetto alla possibilità di realizzare detto impianto, scrive nella nota il signor Amedeo Monaco, è stata inizialmente neutra riscontrando l'esigenza di approfondire e comprendere per quanto possibile termini e condizioni pro e contro di questo genere di impianti. Dopo aver massimizzato le informazioni, anche osservando le realizzazioni di impianti similari in tutto il mondo e più specificatamente anche nei territori limitrofi, ad esempio Serre ed Albanella, dove due impianti del genere sono realizzati, ritengo, continua, che questa sia una grande occasione per il comune di Auletta e per quelli vicini. Non esistono criticità oggettive per queste iniziative che, se gestite nella maniera ottimale, sottolinea, non hanno alcuna ricaduta negativa per il territorio. La digestione in vasche chiuso non dovrebbe consentire la fuoriuscita di alcun miasma, se non in misura del tutto tollerabile. L'autore dello scritto, inoltre, passa anche ad analizzare i fatti e le circostanze che gli italiani devono supportare anche a causa delle guerre che portano ad un aumento generale dei prezzi dell'energia, che, con l'impianto, a parere dello scrivente, potrebbero essere invece ridotti. E' inoltre strabiliante l'ignoranza dei fatti contemporanei da parte di pochi facinorosi, attacca, che pur vivendo nel nostro medesimo contesto non hanno avuto contezza dell'aumento del costo del gas metano e di conseguenza dell'energia dell'inflazione a causa degli effetti della guerra in Ucraina, aumenti fino a dieci volte il costo a metro cubo anteguerra, e di conseguenza non si rendono conto dell'importanza di avere impianti del genere che, se forse in condizioni di normalità del mercato, non sono particolarmente competitivi rispetto al gas importato a prezzo basso. Al contrario, in caso di turbulenze, diventano non importanti ma vitali. Questo ragionamento vale anche per la disponibilità di concimi e ammendanti di cui chi lavora in agricoltura ha potuto negli ultimi mesi osservare l'aumento esponenziale dei costi sempre dovuti alla guerra. In apertura della nota stampa, l'autore spiega quali, a suo parere, potrebbero essere vantaggi e perché l'impianto non va considerato pericoloso. La produzione di biometano, scrive, attraverso la digestione di biomasse, quindi reflui zootecnici e sanse, ossia scarti della molitura delle olive, a regime dovrebbe produrre circa 500 metri cubi all'ora di gas metano da emettere in rete ed un significativo, probabilmente utile a soddisfare grandissima parte delle necessità del territorio, quantitativi di fertilizzanti ammessi anche in agricoltura biologica.